L'ANAS ha programmato ulteriori interventi di ripristino della Galleria Limina, interessata nella serata di domenica da un distacco superficiale di calcestruzzo dalla fronte esterno del portale della Galleria sul lato ionico. Gli interventi saranno eseguiti senza interruzione del traffico. Nella notte tra il 17 e il 18 si è infatti reso necessario chiudere al traffico il tratto per circa due ore. La circolazione è stata ripristinata al termine dell'attività di bonifica delle superfici di calcestruzzo adiacenti a quelle interessate dal distacco e dalle verifiche tecniche da parte del personale di ANAS. Da ieri il traffico è irregolare in entrambi i sensi di marcia. Si segnala inoltre che sono in ultimazione le attività di progettazione necessarie a definire l'intervento più esteso per la messa in sicurezza di tutta la Galleria Limina. Intervento da realizzarsi con interruzione del traffico prevalentemente in orario notturno che avrà avvio dopo le procedure formali di approvazione del progetto entro il prossimo mese di marzo.